Da Roma arriva lo stop sulla legge regionale di riforma degli enti locali, la numero 7 dello scorso 12 aprile, con cui la Regione ha deciso di aumentare le province da 5 a 8 senza referendum previsto dallo Statuto della Regione. La decisione, che arriva dalla Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini, parte dalla considerazione che la Sardegna, con circa 1.600.000 abitanti, ha oggi 4 province e una città metropolitana, lo stesso numero del Lazio, che conta però il quadruplo degli abitanti dell'isola. Secondo la legge di riforma degli enti locali, passerebbero 8 le province dell'isola, 2 città metropolitane, Cagliari e Sassari, e 6 province, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente e Nord-Est. Con l'approvazione della legge, avvenuta due mesi fa, la Sardegna andrebbe quindi addirittura a superare, per numero di province, regioni molto più popolose, come Campania, Veneto o Puglia. Il numero medio di abitanti per provincia sarebbe di 200.000, meno di un municipio di una grande città. Una moltiplicazione voluta esclusivamente dalla regione, senza nemmeno ricorrere al referendum previsto dallo Statuto regionale, che porterebbe a un'organizzazione regionale elefantia, che è inutilmente costosa. E dalla regione arrivano le prime reazioni. Parla di decisione esclusivamente politica e di attacco diretta all'autonomia della regione, Antonello Peru, consigliere del gruppo Udici Cambiamo. Secondo Peru, la riforma è indispensabile per dare equilibrio al sistema istituzionale sardo. Un primo passo che, già dalla scorsa legislatura, qualcuno a Roma sta cercando di sabotare. E non evita una stoccata anche alla maggioranza di governo regionale. Non serve solo approvare le leggi, bisogna poi avere anche la forza di difenderle a tutti i livelli.